Che sotto al terreno, che viene calpestato ogni giorno, ci siano tratti e reperti storici è ormai cosa certa. Così come a Padiglione, frazione di Tavuglia, che da quasi 80 anni a sta parte, conserva sotto di sé 7 bunker tedeschi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Una rete di fortificazione difensivistica militare, attribuibile alla linea gotica costruita nel 1944, che si estendeva per 300 chilometri dal versante terrenico al versante Adriatico. Sono diversi i bunker che negli anni, nella provincia di Peserurbino, sono stati recuperati e resi accessibili al pubblico. L'ultimo in ordine di tempo, quello di Vallefoglia sul monte di Montecchio, dove sopralluoghi e scavi hanno permesso l'accesso a chi desidera conoscere più da vicino la storia del proprio paese. I sette fortini tedeschi presenti a Padiglione sono però ancora nascosti al pubblico. Andando con ordine, uno si trova in strada a Casella, tramonte e zona abitata, dove tra fine 2020 e inizio 2021 un abitante dello stesso paese, incuriosito dalla rilevanza dell'argomento, si è messo alla ricerca dell'ingresso del bunker. Dopo ore e ore di lavoro è riuscito a trovare l'accesso e a filmarlo dal suo interno, dal quale si può intravedere la sua struttura a volta a botte. Un ambiente per circa 3-6 militari tedeschi in grado di conservare munizioni e armi per impedire l'avanzata alleata. Altri due invece sono situati in strada Santa Barbara ed entrambi si trovano seppelliti da una colata di cemento o da un casotto dell'Enel che ne tarpano di conseguenza il recupero. Quello presente all'interno di una proprietà privata è l'unico dei sette che è collocato su una collinetta, orientato verso il monte di Colbordolo, zona dell'avanzata delle truppe alleate. Per quanto riguarda quello sottostante all'edificio dell'Enel, si vocifera che il bunker avesse tre uscite, due laterali e una frontale, collegata quest'ultima al fiume Foglia. L'unica delle tre rimaste visibile è quella laterale, nel tempo cementificata bloccandone l'accesso. Altri due si trovano in via Antonelli, entrambi sotterrati da altre tante abitazioni che ostacolano ogni tipo di approfondimento. Però dal maggiore spessore di un tratto di strada si può notare come effettivamente dalla botola presente nella proprietà privata ci possa essere un collegamento con il fossa a fianco. In via Enrico Fermi invece, sempre in un'area di un privato, si trova un casotto che circa 50 anni fa è stato edificato su un appezzamento di terreno. Quello stesso terreno che da decenni ricopriva l'ennesimo riparo tedesco, che ora si trova a qualche metro di profondità e che necessita di un importante lavoro di scavo per poter risalire al reperto storico. L'ultimo per ordine logistico si trova in via Berlinguer, dove però la costruzione di una palazzina ne ha completamente ricoperto ogni tipo di accesso e di ricerca.